Paolo Dybala alla Juventus, adesso è ufficiale il club bianconero, infatti con una nota sul proprio sito, ha comunicato l'acquisto dell'attaccante argentino dal Palermo. La Juventus comunica di aver perfezionato l'accordo con il Palermo per l'acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Paolo Dybala, si legge sul sito del club bianconero, a fronte di un corrispettivo di 32 milioni di euro pagabili in quattro esercizi. Il valore di acquisto potrà incrementarsi di 8 milioni al maturale di determinate condizioni nel corso della durata contrattuale. Gli effetti economici, si legge, patrimoniali di tale acquisizione avranno effetto a decorrere dalla stagione sportiva 2015-2016, la Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva quinquennale. E in merito a questa operazione il procuratore di Dybala, Gustavo Mascardi, ha accusato Zamparini di non averlo pagato. La replica del presidente Rosenero non si è fatta mica attendere. In riferimento ad alcune dichiarazioni rilasciate dal signor Mascardi, dice Zamparini tramite il sito ufficiale del Palermo Calcio, affermo che lo stesso parla senza titolo e senza ragione. Il Palermo non ha mai avuto alcun debito con la famiglia Dybala e anzi è stata vittima di ricatti e raggiri da più parti che sono e saranno oggetto di valutazione da parte delle autorità competenti. Il signor Mascardi, conclude Zamparini, ha perso l'ennesima occasione per stare zitto e evitarsi altre brutte fiori.